Il gremio uscente in scena all'obiettivo grande, Edoardo, in compagnia di un anziano, provvederanno alla vestizione della bandiera. Ovviamente verrà presa la bandiera, esposta nel balcone del... La bandiera rimarrà esposta per tutta la giornata, sino alla sera, quindi il giornato che il gremio scenderà accompagnato dal candeliere e riprenderà la bandiera insieme all'ontalone della... Grazie. Grazie. Grazie a tutti. con il bastano è tutto ok tienilo no, non per girare 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 guarda non per girare 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 ma è andermi ha di trovare un attimo di raccogliere le utenità e portare la valbia è la cosa più importante che questa è di una che ha di trovare Grazie a tutti.